Il protocollo siglato nella sede della Curia di Sassari ieri pomeriggio dal Presidente Francesco Pigliarù con il Sindaco Nicola Sanna e Monsignor Gianfranco Saba in qualità di membri del Consiglio Direttivo della Fondazione Figlie di Maria permette la concessione in uso gratuito per un periodo di 50 anni dei locali dell'edificio ex sordomuti di Sassari della Fondazione Figlie di Maria alla Fondazione Accademia Casa di Popoli, Cultura e Religioni, recentemente costituita per volontà dell'Arcivesco Gianfranco Saba per la realizzazione di un centro di alti studi interculturale e interreligioso. Il progetto dell'Accademia, promosso all'Arcivio Cede di Sassari in collaborazione con l'Università Turritana, intende contribuire alla definizione di un'offerta formativa nel settore della ricerca specialistica e della formazione scientifica di particolare interesse sociale e culturale, così da favorire l'integrazione dei popoli e delle civiltà in una società multietnica, multiculturale e multireligiosa nel contesto europeo e internazionale. Dopo un anno di confronto seguiamo questo progetto che porta a uno sdodo significativo il dialogo intercorso e incentiva la vocazione originale della Fondazione Figlie di Maria sempre legata alla dimensione dell'uomo e della socializzazione, ha spiegato l'Arcivesco Gianfranco Saba. Oggi più che mai abbiamo bisogno di strutture e infrastrutture materiali e immateriali dedicate al confronto dei popoli e al dialogo internazionale del Mediterraneo, ha dichiarato il presidente Francesco Pigliaru. Siamo alle battute conclusive di un dialogo in atto da diverso tempo, ha sottolineato il sindaco Nicola Sanna, un dialogo tra istituzioni civili e religiose, che trova oggi con la firma del protocollo la sua compiutezza. Grazie a tutti.